allora gli oggetti con trama partiamo proprio dall'esempio dal classico esempio che abbiamo fatto più volte quello della della sfera perché così riusciamo a capire benissimo qual è la potenza proprio di questa funzione è quello di rendere un oggetto piatto come questo tridimensionale quindi dargli un effetto di profondità lo possiamo fare in due modi uno è utilizzando lo strumento come abbiamo visto anche l'altra volta quindi lo strumento trama seleziono lo strumento clicco su un punto dell'oggetto e viene creata una trama un punto di trama che è l'incrocio praticamente tra una linea verticale e una linea orizzontale tant'è che poi da questo punto si dipanano quattro maniglie direzionali non due ma quattro per chi agiscono sia in verticale che in orizzontale a questo punto può essere associato un colore e questa è già diventata immediatamente un'altra cosa un altro elemento da un semplice cerchio adesso è una sfera quindi ho dato questa sensazione di tridimensionalità che può essere anche modificata in qualsiasi momento sia sul colore quindi posso creare un riflesso giallo non solo giallo ma anche dandogli una tonalità per esempio quindi renderlo più chiaro o anche un grado di trasparenza quindi l'opacità e poi posso intervenire ancora su questo disegno su questo oggetto inserendo altri punti di trama per esempio se clicco in questo punto verrà generato un punto una linea di trama un tracciato orizzontale se clicco invece in alto viene generata una colonna una riga che contiene dei nodi quindi all'incrocio delle linee orizzontali e verticali ci sono dei punti di trama che si comportano esattamente come punti del tracciato quindi con la selezione diretta li posso modificare come voglio e posso anche infittire questa trama come voglio quindi se ho bisogno di più punti basta che clicco in questo strumento vedete che il cursore cambia quindi insomniamo un poco compare il più vicino al cursore che mi avverte che sto aggiungendo un punto di trama con conseguente linea orizzontale o verticale nel momento in cui mi pongo con il cursore su un punto di trama invece non c'è il più e posso selezionarlo e spostarlo non solo con il maiuscolo premuto posso spostarlo sulla linea di trama quindi non rischio di modificare la curva se ho bisogno di spostare il punto di trama mantenendo quella curva perché chiaramente la curva è essenziale in che senso questa curva mi descrive mi disegna la relativa sfumatura quindi se disegno la curva in questo modo la sfumatura si dipanerà in modo diverso questo significa che devo stare attenta molto attenta a come si muove la curva se ho bisogno quindi di non modificare la linea con lo strumento trama e il maiuscolo premuto vedete sposto il punto però mantenendo questa linea la linea della trama se invece clicco con l'alt premuto compare il meno e elimino completamente tutta la linea di trama quindi non solo quel punto ma anche la linea associata ricreamola ok qui e facciamo così a questi punti con il maiuscolo potete aggiungere alla selezione quindi selezionarne di più e diamogli diamo sui campioni blu più scuro in modo da accentuare questo effetto di tridimensionalità questo lo facciamo bianco e questo grigio no questo va bene quale che porta il verde ok togliamo un po di giallo 10 e anche qua due clic sul selettore di colore avete il controllo quindi potete modificare la percentuale di colore agendo proprio sulle componenti o con l'rgb o con la quadricomia ecco in questo modo io personalizzato i riflessi su questo oggetto quindi ho dato un colpo di luce qui e invece se la luce sta qua chiaramente proprio per logica l'altro lato sarà in ombra disegnare con il chiaro scuro che è una delle tecniche pittoriche antiche quanto l'uomo significa aggiungere volume dare proprio volume quindi l'effetto di tridimensionalità all'oggetto chiaramente dovete stare attenti perché se qui ho la luce significa che il lato opposto sarà in ombra quindi fate attenzione a questi criteri che sono diciamo universali quindi quando lavorate con i riflessi con la luce e con l'ombra dovete sempre tenere presente dove avete posizionato la sorgente di luce perché l'ombra sarà nel lato opposto ed è abbastanza semplice perché io ho lasciato questo questo alone un po giallo qui perché non sempre le luci e le ombre sono neutre cioè le luci bianche e le ombre del colore più scuro molto spesso gli oggetti se hanno una superficie che riflette riflettono anche i colori che sono nell'ambiente quindi nel caso vicino a questo oggetto ci fossero altri oggetti di questa tinta è chiaro che il riflesso per essere più naturale possibile deve contenere anche dei colori dell'ambiente quindi se questa sfera fosse stata sempre in un prato dove c'è l'erba o i fiori sulla sfera se è un materiale riflettente ripeto ci dovrebbe essere anche una ci dovrebbe essere una contaminazione anche di colori dell'ambiente oltre che la luce ho detto all'inizio che la trama viene utilizzata proprio per creare delle illustrazioni anche molto complesse come per esempio questa togliamo le guide cioè questa bottiglia di latte che sembra fotografata sembra reale in effetti è vettoriale ed è stata ridisegnata proprio con la trama infatti si blocchiamo se la seleziono vediamo come è fatta la trama in questo caso per ridisegnare questa bottiglia io ho già fatto la metà del disegno dell'oggetto quindi questa è la metà del tracciato strumento riflessione con l'alt premuto clicco sul punto che io voglio che sia il centro c'è quindi l'asse di riflessione in questo caso questo punto qui perché deve essere esattamente il lato praticamente destro dell'oggetto deve stare esattamente a metà poi della riflessione ho un'anteprima quindi mi fa vedere come viene riflesso però non solo riflessione ho bisogno anche della copia quindi con il pannello elaborazione tracciati unifica e adesso questa forma è intera ora possiamo attribuire un riempimento diciamo ecco questa tinta qua la traccia no possiamo utilizzare questo strumento che mi seleziona i punti disegnando che è lo strumento lazo un po come quello di photoshop e quindi riesco a prendere tutti i punti che mi servono troppo scuro non facciamo così di questo colore poi gli altri che stanno da questa parte devono essere un po' più chiari di questo quindi ci selezioniamo questi punti qua state attenti a non andare oltre ecco sono andata oltre vabbè non fa niente facciamo leggermente più scuro e poi quelli del perimetro ok io purtroppo ho il mouse mi facciamo ancora più scuro perché generalmente i bordi sono un po' più scuri per dare la tridimensionalità per definire proprio il bordo così come quelli qui in basso li facciamo giustamente ok li facciamo ancora più scuri perché succede questo qui quindi proviamo a fare anche la parte superiore allo stesso modo se voglio il bordo significa che devo aggiungere sicuramente un'altra linea qui ok e questa parte superiore vediamo un colore più scuro in modo da definire il bordo se voglio poi definire un'altra parte qui altra linea vi conviene zoomare perché se no non vedete quando compare il più ok generalmente si mettono tre alla volta perché perché quella di centro poi si fa più scura o più chiara e troverà l'interruzione di colore sopra e sotto quindi quella centrale diciamo eh mi sono perso questi altri due e anche vabbè zoomate perché se no non riuscite a prenderli bene e già in questo modo ho definito il tappo è è è è è è è è Grazie a tutti.